Il 12 febbraio torna a Brescia Smart Future Academy, evento di orientamento per i ragazzi delle superiori. Quest'anno il progetto si è ulteriormente allargato con spazi sempre più ampi dedicati al workshop. Un'iniziativa partita da Brescia tre anni fa che ormai si è allargata. Dieci città italiane. Cosa vuoi fare da grande? La domanda è rivolta agli studenti del triennio delle scuole superiori e per aiutarli a rispondere torna a Smart Future Academy, progetto di orientamento al lavoro ideato a Brescia che la sua quarta edizione si allargerà quest'anno a dieci città in tutta Italia coinvolgendo 40.000 giovani. Il format è ormai consolidato con una serie di speaker di eccellenza del mondo dell'impresa, della cultura, della scienza e dell'arte che incontreranno i ragazzi, li incuriosiranno con i loro racconti di vita e li stimoleranno a perseguire i propri obiettivi personali e professionali con il massimo dell'impegno e della passione. I ragazzi sono straordinari, hanno una marcia in più rispetto a noi, hanno tante possibilità, a volte non le vedono perché sono troppe. Secondo me l'adulto oggi dovrebbe smetterla di dire siamo in crisi, non troverai lavoro. In fin dei conti tutti gli speaker che sono sul palco hanno avuto anche loro dei momenti di dubbio, di incertezza, sono caduti. Ma ci si può sempre rialzare e come? Disciplina, impegno, passione. Appuntamento il 12 febbraio al Palaleonessa per gli speech e al vicino Brixia Forum per i workshop smart che dopo l'esperienza positiva dello scorso anno raddoppiano negli spazi. I giovani avranno così l'opportunità di incontrare istituzioni, aziende, università e ITS che con modalità interattive permetteranno loro di toccare con mano il mondo che li attende ai conclusi gli studi. Un programma articolato dunque ma gratuito per i ragazzi che si realizza grazie ad una proficua collaborazione tra istituzioni e scuole con il ruolo da protagonista della Camera di Commercio che ha sposato il progetto con il patrocinio e il cofinanziamento.